Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni parla ai suoi nuovi eletti e gli dice che cosa devono fare in Parlamento. Quindi il primo incontro della Meloni con i parlamentari che saranno quelli per i prossimi cinque anni. Così iniziano ufficialmente i lavori di Fratelli d'Italia in Parlamento. La Meloni convoca gli eletti per Camera e Senato per una riunione preliminare. Regalino, fular alle signore, cravatta ai signori e spilletta di Fratelli d'Italia. Tra i volti noti abbiamo Giulio Tremonti, l'ex PM Carlo Nordio, un po' emozionato per la sua prima assemblea da eletto, l'ex governatore siciliano Nello Musumeci e Livia Mennonni, che ha battuto Emma Bonino e Carlo Calenda a Roma. Dice così la Meloni, professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno animo e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la nazione, ha detto Giorgia Meloni sui social prima di iniziare la riunione nella cosiddetta Auletta, sembra un piccolo parlamento. La riunione è durata un'ora, tempo che è servito alla leader del partito di fare il punto della situazione, con vecchi e nuovi eletti. Arriva tra gli applausi e parla di diversi punti. Come vi dicevo prima il regalino ai nuovi eletti e chiede sobrietà nei comportamenti e presenza obbligatoria in Parlamento e soprattutto responsabilità. Dice bisogna vestirsi anche in un certo modo perché andranno a criticarci anche su come ci vestiamo, attenzione a come ci si veste. Immaginando che qualcuno potrebbe arrivare magari tutto vestito di nero, ve lo immaginate? Col cappello in testa. Ecco per prevenire qualche babbeo che sempre c'è, c'è sempre un babbeo che la mattina si sveglia e dice adesso mi vesto così perché vuoi fare la cosa goliardica, no? Quindi dice attenzione anche a come vi vestite, attenzione a tutto, alle dichiarazioni che fate, pensateci prima, perché sono pronti ad attaccarci su qualsiasi cosa. E poi chiede a questo punto la sobrietà nei comportamenti e l'assenteismo. Voi sapete che l'assenteismo è anche un problema di molti eletti, gente che viene eletta e poi non si presenta mai in Parlamento. Tanto alla fine, quando poi voi siete eletti e non vi presentate, se il partito vi scarica, cioè se il partito non dice niente e voi per cinque anni vi prendete lo stipendio, senza fare assolutamente nulla. Se il partito vi scarica e voi andate nel gruppo misto, voi continuate a prendere lo stipendio fino a fine legislatura tranquillamente. Pertanto un nuovo eletto che va a lavorare o no, prende lo stipendio. Gli tolgono una parte dello stipendio se è un assenteista cronico, però la maggior parte continua ad intascarsela. Ecco, pertanto l'assenteismo è un problema e lei chiede la presenza obbligatoria. Poi dice che, ho detto agli alleati, e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia, puntiamo a dar vita a un governo autorevole di altissimo livello. Che parta dalle competenze, puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo, dice Giorgia Meloni rivolgendosi agli eletti. La leader di Fratelli d'Italia lavora da tempo a questa vittoria e ora, come ha spiegato nel corso del suo intervento, se e quando il Presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico, puntiamo ad essere pronti il più veloce possibile, anche nella formazione del governo. Ci sono dei problemi stringenti, dice la Meloni, dal caro Bollette all'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. L'obiettivo di questa legislatura di Fratelli d'Italia sarà agire per il bene del Paese e ogni atto messo in campo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale. E aggiunge abbiamo rotto poi tutti gli schemi creando diversi cortocircuito nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da quello che è stato visto finora, noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri. Abbiamo portato per la prima volta alla destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo, una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità e rivolgendosi agli elettori a concluso vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie. Naturalmente prendendo un governo, uno Stato, un Paese in queste condizioni le probabilità di diventare un modello e di fare tante vittorie non sono molto alte sinceramente perché come sapete l'Italia ha debiti, non ha soldi e ha le tasse più alte in Europa. Che cosa volete fare? Qualunque Presidente del Consiglio arrivi in questo momento ha delle possibilità di manovra talmente piccole che fare un grande governo che sia ad esempio sinceramente altri Stati come la Germania prendono 200 miliardi che avevano da parte, 200 miliardi come il nostro PNRR di cui tanto parliamo mentre la Germania quei soldi li ha da parte, chissà quanti ne ha, li prende, 200 miliardi per tagliare le bollette, alla faccia, alla faccia, ma poi non si può compararsi con la Germania se sono Stati che hanno debiti molto più bassi dei nostri, riescono ogni anno anche a mettere da parte dei soldi, che cosa volete, qual è il paragone con l'Italia che nel cassetto non c'ha niente, nulla, ecco. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, arrivederci e grazie.